ma io vedo un uomo adagiato con tutto il suo strato di corpo su una poltroncina lo strato di corpo ma chi è costui costui è franzo letto noi ci piace invitarlo perché coordina insieme ad altri il lavoro del team di web foto e quindi naturalmente noi ci piace avercelo perché ci mostra i migliori scatti della giornata quelli scelti tra quelli che potete trovare pubblicati sul nostro sito sharewood.it quindi franz ti diamo un benvenuto vediamo se cominciamo andare già con le immagini così commentiamo un po quello che è stato raccontato ieri perché come sempre tante tante cose allo sharewood festival ieri abbiamo detto che c'era il teatro abbiamo detto che c'era è cominciato il torneo di basket il cinema lo vediamo nelle foto che adesso il buon franz audacemente proverà a descriverci questo questo è una è una provocazione vittelloni. Io ho appena cenato quindi proprio sto benissimo non mi fa nessun effetto. Come hai già cenato? Ho già cenato? Eh avevo fai ma non è questo che interessa ai teleutenti della web di Google. Questa foto questa foto che stavamo parlando di cena cosa ti rappresenta questa foto questa è la cucina è anche l'estate è vero però ormai posso dire lo fanno un po tutti quelli che hanno lo smartphone no di fotografare il piatto che stanno mangiando quindi è un po' una provocazione è una provocazione questa la farla con una macchina invece che costa molto più di uno smartphone non necessariamente molto di più però una cosa un po più seria sicuramente più seria sicuramente più pensata insomma piuttosto che fotografare semplicemente il tuo piatto vai a cercare un'angolazione giusta vai a tu hai disposto gli ingredienti del piatto per comporre una foto deve essere sempre studiata fantastico capisco molte cose e la differenza tra appunto l'immagine quella raccolta molto spesso via smartphone che serve per comunicare un qualche cosa e invece queste sono le immagini che ti tieni quelle che insomma un'immagine che può comunicare qualcosa perché un conto che comunica ugualmente non trasmettono una notizia può essere curata di più può essere lavorata mentre invece molto spesso nella comunicazione di oggi si usano le immagini non tanto perché sono belle perché ci dicono una cosa immediatamente basta vedere quello che stanno in questi giorni con le rivolte in Turchia in Brasile eccetera è servito molto ma poi dopo ti vai a cercare chiaramente la rassegna fotografica dei giornali quelli poderosi che tipo americani o così che hanno insomma delle foto che poi sono anche belle lavorate eh sì il giorno dopo però ma andiamo avanti dai giorno dopo bravo il giorno dopo chiaro il giorno dopo sono tutti bravi qua è iniziato qualcosa qua qua è iniziato qualcosa ieri è iniziato il torneo di basket e l'abbiamo portato all'inizio eh nel nella parte quella dedicata al sport alla rovescia nel playground in fondo dopo il palco grande e quindi naturalmente una settimana di torneo dedicato al basket e poi invece ci saranno anche altre discipline nei prossimi giorni questa sfocatura che tu mi fai eh sullo sfondo in con dieci parole io ti faccio ma che il nostro team che il team si dicevo tu è indicando il team una metonimia ecco e riesci in dieci secondi a spiegare come si fa ce la fai puoi dire no è di troppo lungo è un meccanismo all'interno della macchina fotografica che regoli in questo caso il diaframma quando tu apri il diaframma ovvero abbassi il numerino che indica il diaframma l'f barra per chi lo volesse leggere sulla propria reflex e non l'ha mai fatto abbassando questo numero tu comprimi il campo di messa a fuoco ah e quindi quello che in primo piano è a fuoco e sullo sfondo invece non si vede non necessariamente in primo piano tu puoi mettere a fuoco anche lo sfondo e lasciare il primo soggetto quello principale un pochino sfoccato hai capito vitelloni hai imparato una una cosina l'hai imparata è la prima volta che mi succede al festival di imparare una cosa mentre facciamo diretta streaming eh già già proprio sì la prima volta con franz ti succede con franz ha dell'incredibile diciamo franz per indicare il team esattamente sì 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 poi dopo lui insomma ci mette il corpo più che la faccia perché insomma vediamo che è più corpo è un personaggio è un grosso personaggio abbiamo ancora immagini ah bella questa ieri lo spettacolo ieri c'era lo spettacolo ed è veramente la parte bella del teatro il fatto che c'è questo sfondo nero questi chiaroscuri che ti fanno cogliere con i piccoli movimenti l'azione il gesto quello che l'autore del pezzo teatrale ti voleva raccontare e qui appunto si si intravede solamente un pochino la mano ma è un chiaroscuro non la vediamo veramente definita e invece la dinamica facciale la mimica il volto quello è veramente bello stai andando fortissimo qua mi sei piaciuto veramente molto andiamo andiamo avanti perché il mood è quello giusto andiamo avanti anche veloce perché fra poco dobbiamo lasciare lo spazio al second stage quest'oggi il radar festival e caro franz diciamolo il meta festival lo abbiamo chiamato così l'hashtag meta festival perché tu caro franzi hai lanciato davvero tante cose tante cose le abbiamo dette noi molto prima molto prima ma quando le ha dette franzi allora noi ci piace ci piace appunto franzi che è il team prego team si si una parte per il tutto sempre ma si suonava anche ieri ieri si suonava pure c'è stato pure il concerto musicale e di fabio cinti e paolo benvenu che ha finito tra l'arresto lui la performance ed è stato credo qualcosa di molto importante molto 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 bello per tutti quelli che seguono la musica indipendente da tanto tempo paolo benvenu on stage qua io credo che sia stato piacevole il fatto che abbia contragnato poi uno che diventerà dicono bravo molto bravo come fabio cinti beh insomma una cosa in più e il finale secondo me è stato molto davvero meritevole sì tornando un attimo sulla fotografia che abbiamo appena fatto vedere se la ricerca è un dettaglio sugli occhi cioè puoi descrivere la ricerca della complicità è la ricerca la ricerca della complicità complicità prossima foto andiamo avanti la ricerca della complicità non è male anche questo ma franzi ma studi tanto prima di riascierti qua sto improvvisando prima mangia bevi qualcosa tu invece ti prepari questa foto ho visto una composizione nella foto appena mandata dalla regia cioè di tua fratim tu e mia fratim tu a franzi però non facciamo pubblicità occulta ma le hai schierati tu loro le ho schierati io sì ieri nel backstage qua allo Sherwood festival abbiamo questo pannello dove facciamo fare le foto di rito ai gruppi nella galleria che trovate sul sito su Sherwood.it potete vedere tutte le foto quelle canoniche quei gruppi dietro io ho pensato di modificarla un pochino anziché fare il classico sfondo col pannello abbiamo preso un transpallet ci siamo messi un attimino in posa carino molto carino il transpallet mi piace abbiamo tagliato i piedi a paolo benvenu ma questo ci sta altissimo ma questo ci sta ma è altissimo ecco se l'hai cavata così è il team che ha risposto non è franzi abbiamo finito c'è qualcos'altro no c'è ancora qui ma questa qua è bella questo era lo spettacolo teatrale questo è proprio il fatto che la commissione di arti che c'è qua allo Sherwood festival il fatto che quando vai a vedere uno spettacolo teatrale ti trovi un batterista cazzo commissioni di arti commissioni di arti la meta arte la meta arte commissioni di arti è eclettismo eclettismo è un po' tutto allora diciamo che lo stand dei fotografi è pienamente operativo tutte le sere qua da in diretta dal festival nel senso che se venite potete vedere effettivamente come e quanto lavorano persino a parlarci e persino scambiare delle chiacchiere con loro perché sono degli esseri umani voi vedete lo staff adesso ma non sono tutti come franz zoletto abbiamo finito le foto ce ne sono ancora mi sembra proprio che abbiamo terminato inoltre sono le nove quindi io direi che se riusciamo ma questa è una cosa che io non ho chiesto la regia quindi in realtà è un colpo di teatro vediamo se riusciamo andare magari con le immagini sul second stage per capire quanto manca ma appunto commissione delle arti ci andremo ecco ci andremo ci andremo fra un po' quindi ci fermiamo con una clip che e poi torniamo perché appunto comincia il radar festival in realtà comincerò anche tante altre cose vogliamo ricordarvele tutte prima di lasciarli poi cambiamo anche la persona che viene a parlare a nome dello staff magari la prossima volta stiamo tentando di fare questo ma diciamo tutti molto timidi sono bravi tipo non so a vestirsi con le creste quando arrivano gli on effects oppure a travestirsi da giullari durante altre giornate però poi parlare davanti al microfono no perché loro sono timidi sono un po' tutti timidi è un mondo così un mondo così ciao franz ciao ciao